ciao a tutti ecco il mio portafoglio di etf giugno 2021 allora ciao a tutti adesso andiamo a vedere il portafoglio a che punto è arrivato a giugno 2021 allora ok gennaio questo fine gennaio quanto era il mio portafoglio poi febbraio mi sembra che però avevo preso a febbraio mi sembra che avevo preso guadagno avevo venduto ho tratto profitto e marzo pure autoro avevo preso profitto poi invece invece aprile no non ho preso profitto purtroppo ma si no ho preso profitto perché qui ho cambiato vero avevo venduto ho preso profitto anche in aprile perché avevo venduto e avevo ribilanciato il mio paniere di etf infatti è andato malissimo un'idea bruttissima che adesso vi racconto è andata male perché e non chiuso in negativo maggio e adesso siamo qua che sta miglior leggermente migliorando perché qua la perdita era almeno 1,4 in etf e qua invece siamo 0,9 sta migliorando anche le azioni sono stu guadagnando tanto in anche nelle azioni anche nel fondo sono stanno andando meglio pian piano sto ripianando le perdite speriamo bene allora quindi giugno allora in questo momento le regioni le ragioni della pressione a ribasso sono varie sono variate ma gli strateghi hanno citato un mix di preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione timori dalla federal reserve che potrebbe ridurre lo stipolo monetario prima di quanto telegrafato è il potenziale aumento delle tasse nei mesi a venire anche warren buffett nel 2020 ha sbagliato ha venduto un po di quote di apple poi qual è cresciuta tanto e ha venduto anche compagnie aeree in perdita anche esse sono salite e ha perso notevole quantità di denaro un potenziale guadagno come vedete investire anch'io ho sbagliato ho cambiato asset invece tenevo gli stessi asset di aprile di aprile o meglio di marzo di ecco tenevo gli asset che avevo qua in questo mese qui che è marzo fine marzo a quest'ora ero positivo avevo gli etf positivi invece ho fatto la cavolata che adesso vi spiego dove ho sbagliato ho fatto quello che vogliono fare i fondi di investimento vendere e comprare altre azioni che per loro dovrebbero rendere di più invece performano meno degli etf ho fatto lo stesso errore dei fondi non mi ricordo chi ha detto quando investite la migliore strategia e non averla gli investimenti questa è la migliore strategia che si possano avere io volevo a fine io volevo a fine marzo e inizio aprile cioè io volevo io ho fatto fine marzo e prima aprile quindi ho ribilanciato girato le azioni venduto ed acquistato nuovi etf soprattutto bond che è stata una bruttissima idea perché secondo me gli usa avrebbero sottoperformato e mi sono riempito di etf di bond di aziende in generale con qualche etf groove soprattutto e ho fatto anche come i fondi e ho fatto come i fondi il risultato sto sottoperformando l'uomo umano per cui sbaglia esatto e un'altra cosa ho preso molto Europa che però forse forse quest'anno forse l'Europa performerà meglio degli Stati Uniti ma si è visto anche dal Nasdaq il Dow lo standard V500 il Nasdaq sta fatto male fino adesso mentre a maggio il Dow Jones è salito del 2% e non mi ricordo quanto lo standard V500 comunque lo standard V500 è all'1% dal massimo storico per cui il Dow Jones e il standard V500 stanno facendo molto bene ma mentre il Nasdaq il tecnologico meno e per cui si pensa che succederà la stessa cosa in questi mesi nei prossimi mesi in Europa con le riaperture e tutto cosa fate quando vi trovate in negativo? in negativo si possono usare le minus valenze le minus valenze quindi vendi ci sono tre strategie ottieni o vendi per poi andare a ripianare le perdite dalle vendite delle azioni perché gli ETF possono essere ripianati dalle vendite delle azioni perché le plus valenze delle azioni cosa succede? si fa una plus valenza teoricamente dovresti pagare le tasse però se hai delle minus valenze di ETF quelle tasse non le vai a pagare ma vanno a ripianare le perdite del del tuo ETF non so se mi sono spiegato per cui naturalmente nelle banche perché non ho nelle aziende di trading queste qua non hanno minus valenze e plus valenze però però la banca ce la fa questo lavoro qua lavora solo o se no o se no l'altro sistema accumuli liquidità aspettando quindi accumuli liquidità aspettando il tapering e l'aumento delle tasse di Biden se ci saranno e se ci saranno quindi aspetti il punto più basso nel 2022 quindi le azioni scenderanno e quindi aspetti nel 2022 e quindi a quel punto ricompri ETF o azioni se sono sotto anche di azioni dove sei in perdita e questo qui nel lungo periodo naturalmente gli ETF e le azioni in perdita e questo nel lungo periodo se effettivamente poi le borse salgono come dovrebbero risalire ripiani le perdite e torni in guadagno questi qui sono i due sistemi quando uno è in perdita cosa può fare o lavora sulle minus valenze quindi con i guadagni delle azioni a posto di di pagare le tasse ripiani le perdite degli ETF e lo fa nella banca in automatico voi non dovete fare niente o se no accumuli liquidità aspettando il punto più basso e poi entri acquisti e nel lungo periodo vai a ripianare le perdite si ritorna tutto verde va bene ricordatevi mettermi di piace ricordatevi di iscriversi al mio corso del ETF il mio corso ce ne sono quasi il mio corso su The Me su The My lista di ETF per massimizzare i guadagni più del 4% in 10 anni naturalmente purtroppo maggio e giugno sono stati due mesi buttati via per colpa mia però se non cambiavo il paniere dei beni tenevo le solite azioni i soliti ETF avrei sarei già in positivo anche tanto starei già guadagnando tanto purtroppo ho fatto quella cappellata ha sbagliato anche Warren Buffett di comprare Bond e quant'altro che non stanno rendendo niente sono negativi i titoli Groove Growth che non stanno rendendo altrettanto iscrivetevi al mio canale recensioni etf e cliccate su mi piace e se volete compratevi anche il mio corso su The My tanto costa mi sembra 19 euro poi ci sono periodi che scende i prezzi scendono o altri periodi che salgono anche comunque in genere costa sulle 19 euro per cui non è niente sono 4 soldini vi fate il vostro vi guardate il mio video il mio video corso con tutti gli etf che rendono tanto naturalmente non prendete i bond quelli li saltate e e boh alla prossima ciao a tutti